Sia lodato Gesù Cristo Ciao carissimi amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno Giovedì 24 giugno Festa della Natività di San Giovanni Battista Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo! O Dio, che ci hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi! Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore! Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otti giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte, fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore Lode a te o Cristo Nell'antichità si avvertiva l'importanza di dare un nome importante ai propri figli, ora invece si sentono tanti nomi strani. E si fa veramente fatica a capire come se li siano inventati certi nomi. Comunque non è certo il nome a fare la persona, le persone con lo stesso nome hanno vite completamente diverse. In questo caso, però, il nome Giovanni assume un significato particolare. Le persone già pensavano di chiamare questo bambino con il nome di suo padre, oppure con uno dei nomi dei suoi familiari. E l'avrebbero avuta vinta se non fosse dipeso dalla fermezza di Elisabetta, sua mamma. Elisabetta dice no, si chiamerà Giovanni. È bellissimo questo no deciso di Elisabetta, sembra quasi l'opposto del sì di Maria. Santa Maria aveva detto il suo sì a Dio nel momento dell'annunciazione. Sì, si compia in me la tua parola. Elisabetta dice il suo no, ma non lo dice a Dio, lo dice alla gente che voleva spingerla a rispettare le usanze. Se lei avesse seguito le usanze, non avrebbe obbedito a Dio che già le aveva suggerito il nome di Giovanni. No, il suo nome sarà Giovanni. Per fare la volontà di Dio non è sufficiente dire sempre sì, anzi, non è proprio possibile dire sempre sì. È necessario sapere dire dei no, è necessario uscire dalle righe, è necessario uscire dalla strada che il mondo ha già pensato. Solo uscendo dagli schemi del mondo possiamo trovare la via di Dio. Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen Ciao buona giornata e anche questo giovedì come tutti i giovedì Dedichiamo le nostre preghiere ai fratelli e sorelle che soffrono fisicamente e spiritualmente. Preghiamo anche per i loro familiari e per le persone che si prendono cura di loro. Ciao ciao Abbi cura di te Grazie per l'ascolto del Vangelo e per la vostra preghiera.